If I hit the switch, I can make the ass drop, stop, drop and pop it, and after you pop it please put it in my pocket, look here, I need a spot Hey là ragazzi, sono sempre il vostro Dicola25 ed eccoci qui per un nuovo video, il mio primo video in cui faccio vedere la mia faccia di merda Scusate, molti di voi magari rimarranno delusi perché crea sempre una certa aspettativa a vedere, immaginarsi una persona E poi poterla vedere in video, cioè in video dopo che per mesi, anni hai guardato i suoi video sentendo solo la sua voce Molti mi hanno già detto se avevo 15-16 anni, il mio in verità sono molto più grande, però non è questa la sede per parlarne Volevo dirvi quindi, mi dispiace anche che devo fare questo video in questa, scusate se ogni tanto guardo di là perché io ho la telecamera, non uso la webcam Poi ovviamente non sono al computer, non uso la webcam perché non ce n'ho Poi magari la prenderò, però non uso la webcam quindi devo guardare per forza Ogni tanto guardo lo schermetto per vedere se sta registrando e come sto avvenendo il video Perché mi dispiace, volevo fare con questa telecamera, volevo fare il video in camera mia, cioè al computer Ma semplicemente c'è troppo poca illuminazione, ho provato a usare una luce a mosche di merda Ma non è proprio facile, quindi magari cercherò di adattare perché anche per quello non faccio giochi con la webcam Poi non mi piacerebbe, sarebbe più difficile ad editare, è una casa un po' più complica Comunque scusatemi questa location, ho cercato di prendere il punto meno brutto della casa Comunque vi dicevo, questo è il mio primo video in cui vi faccio vedere Molti di voi, anzi i più attenti, quelli che mi seguono da più tempo, quasi anni ormai perché da 2013 ho cominciato Sapranno che io avevo fatto l'errore che mi ero diciamo un po' mostrato Per colpa di mio fratello che li prendeva alla mia prima unboxing, la Buchanil Edition Mi ero diciamo mostrato un pochino, quindi la maggior parte di voi magari sapranno Quelli più storici, sapranno com'ero più o meno, si vedeva quasi tutta la faccia Quindi comunque questo vlog è a coronamento di un'esperienza lunghissima Ma molti di voi, quelli che mi seguono da più tempo, potranno già avermi visto Diciamo un po' di più interamente che poi quello Scherzo, comunque non so cosa dire ragazzi Sono passati due minuti, ho semplicemente questo il mio primo vlog Lo inserirò nella programmazione settimanale, anzi vi aspetto venerdì sul canale Perché andrò in negozio e comprerò la Charing Cross Edition di Assassin's Creed Syndicate Scusate, Assassin's Creed Syndicate, scusate sempre se guardo di là ma ho lo schermetto Di Assassin's Creed Syndicate e quindi farò l'unboxing ragazzi E spero che come tutto l'unboxing di Assassin's Creed che ho fatto abbia successo Perché ho fatto la Notedame Edition in ritardo, visto che l'ho comprata in ritardo Ma questa volta la compro al day one e voglio fare l'unboxing Facciamo tremare la telecamera Quindi vi aspetto venerdì per vedere il video Questo uscirà mercoledì Visto che è un piccolo vlog, un piccolo inizio di vlog Non sarà un video solo, ma ci sarà un altro episodio Forse farò sinusia, lunedì esce Universe quando sto registrando Quindi non lo so, vedrò Comunque ragazzi, questo video è semplicemente informativo Perché da adesso inizio a fare vlog anche io Forse li farò sempre in queste ambientazioni perché è l'unica in cui c'è luce Mi dispiace che in camera non ci sia luce Scusate se qualcuno di voi magari è rimasto deluso dal mio aspetto Ma è una cosa un po' comune, anche a me è successo Seguendo degli youtuber che dopo un po' si mostrano È sempre magari uno shock scoprire com'è la persona Ma peraltro infine se una persona ti piace la segui lo stesso Cerco di guardare nella telecamera ma è veramente complicato Non sono abituato, sono le mie emozioni Perché quando sono a giocare a gameplay ragazzi So che parlo con voi ma gioco da solo Comunque non so cosa devo dire sinceramente Scusate ragazzi ho dovuto mettere in pausa perché ho dovuto chiarire un po' le idee Sono un po' emozionata a fare questo video Quindi ho dovuto chiarire un po' le idee Allora stavo dicendo Questo video è finalizzato solo a lanciarvi l'idea dei vlog futuri In cui voi mi farete delle domande direttamente sotto questo video Mi farete delle domande e mi dite tipo Quello che volete sapere nel prossimo vlog io ne parlerò i vlog Le farò occasionali perché io non sono un tipo da vlog Poi avete visto che l'ambientazione non è proprio il massimo Devo purtroppo abituarmi In camera mia c'è poca luce quindi Considerate che quello è il casino Però dicevo Da adesso in po' voglio lanciare questa mini serie di video Che saranno dei vlog Dei vlog in cui voi mi direte Una domanda Oppure di dire una cosa, di fare una cosa Di essere salutati anche no Ah perché no E io lo farò Quindi il prossimo vlog arriverà quando avrò raccolto abbastanza domande E così parleremo un po' di me Un po' di voi Cercherò di conoscere meglio voi E che dire Questo video è finalizzato anche al dirvi Che io il 31 ottobre Con i miei amici Di vita normale Andremo a Luca Comics Quindi aspettatevi che io farò un reportage vero e proprio su Luca Comics Andremo il sabato 31 E io andrò a Luca Comics E cercherò di fare più riprese possibile E portarvele nel canale Così potrete vedere la mia esperienza di Corea e Luca Comics Scherzo Io ve lo dico perché magari qualcuno di voi si troverà lì E visto che adesso avete visto la mia bella faccione di merda Potrete anche venirmi lì a salutare Non mi imbarazzerà Ma comunque non credo che ci sarà nessuno Perché non mi caga nessuno Però è per dire Se vi trovate lì ci vediamo Scusate sempre se guardo di là ma non sono abituato E che dire La finalizzazione era anche di dirvi che io sono Luca Comics Magari farò degli acquisti e quindi farò degli spacchettamenti Venerdì vi aspetto per l'unboxing di Syndicate E cosa dire oltre questo Aspetto le vostre domande Sto cercando di Il mio lato più bello che non c'è Aspetto le vostre domande qui sotto E io nel prossimo vlog risponderò Quindi progetti futuri C'è la serie con Hanto Sta andando molto bene Sinusia Che ho rallentato perché vi piace moltissimo Universe Quindi Universe la sto apprendendo veramente a cuore E mi piace veramente tanto Quindi sto trattando Universe Faccio Assassin's Creed Che sto cercando di completare Faccio FIFA Sinusia E poi video bonus ragazzi Però da adesso in poi comincerò a fare anche dei vlog Saranno molto sporadici Aspetto vostre risposte Vostre domande E io risponderò Da Dicore 25 Credo che sia tutto Lasciate un like Un commento anche in questi video Soprattutto un commento per dirmi Scusate l'ambientazione come vi dicevo Ma la poca illuminazione di camera mia Non permette Un'avvidanza Di preparare un avvidico Però A parte l'ambientazione La mia impacciatezza Perché nel mio primo video Vedete che gesticolo molto Scusate veramente tanto Ma da Dicore 25 è tutto Lasciate un like Un commento E iscrivetevi Cerco di fare il finale Guardando la telecamera Lasciate un like Un commento E iscrivetevi Da Dicore 25 è tutto E good luck ragazzi Ciao ciao Aspetto le vostre risposte ragazzi Condividete il video se volete Aspetto le vostre risposte ragazzi Aspetto le vostre risposte ragazzi Grazie ka företagazzi